carnival cup dunque eccoci qui a presentare la coppa che vinceranno i migliori sfidanti alle cup del carnevale di oggi abbiamo due camp per yugi una per magic formato legacy e battle spirit a coppie prego la nostra valettina di portarci la coppa che vinceranno i protagonisti ecco essendo carnevale abbiamo pensato a uno scherzettino a carnevale ogni scherzo vale questa è per gli under 15 un belletto di coppa un etto vediamo un etto e 25 quindi abbiamo pure abbondato che faccio la carnevale lascia pure coppa per gli over di yugi legacy sempre coppa bella magra ben scelta bene della carrefour che e battle spirit sono in coppia quindi due eti e mezzo di coppia che se la scofaneranno per bene ora tutti i giocatori oggi pensano di venire qua vincere un bel trofeo invece porteranno a casa una bella coppa vedremo le facce che faranno i nostri giocatori e sulle note di questa canzone vi salutiamo e vi auguriamo buon carnevale buona